Voglio vedere la televisione. Adesso facciamo vedere delle immagini di una cosa bella. Wow, deve essere qualcosa di eccezionale. Chi sai cos'è? Non vedo l'ora di poterlo vedere. Oh mio Dio, ma sono bravissimi. Quanto vorrei saper suonare anch'io uno strumento e avere una band. Peccato che ho sempre un sacco di impegni. Ehi tuo amico, sto parlando con te, sì, proprio con te. Ci senti? Per un attimo ho creduto che la televisione stesse parlando con me. Che sciocco. Adesso pure tu potrai imparare a suonare uno strumento musicale e avere il tuo gruppo. E scriviti subito i cosi. Cosa stai aspettando, smarmelloso? Che cretinata. È la pubblicità più stupida che abbia mai visto. L'unica cosa carina erano quei triangolini che svolazzavano negli angoli del televisore. Che belli. Sembra proprio che qualcuno abbia bussato alla porta di casa mia. Non vedo l'ora di andare ad aprire e vedere chi è. Sono curioso. Ehi, ma questo è mio cugino con i capelli neri. Sarà sicuramente venuto qui a vedere il film di Jack McJohn Fischio. Ma io non lo faccio entrare. Vorrà vederlo sicuramente con le luci spente. E io ho paura del buio. Riesco a percepire la sua forza fin qua. È incredibile. Un buio proprio per battere e trasformare. Sì, sì, mi devo trasformare. Oh mio Dio. Ma questi sono cartoni cinesi. Sono così strani. Però sono anche buffi. Stanno ore e ore a pensare. E non fanno mai niente. Non mi sconfiggerai mai. E anche se mi dovessi sconfiggere. Oh mio Dio. Sto per iniziare il mio programma preferito. Sarà meglio cambiare canale. Non lo voglio perdere. Sarebbe un peccato. Salve, sono Gianni Tidore. E questo è il mio show. It's the Gianni Tidore Show. Fantastico. Gianni Tidore. Cattivo. Sono stanco. Ho fame, ho sette. Ho pogliato i pannini. Anche io lo guardo. Avete visto cosa so fare? Adesso faccio anche il video. Eh, mi sa che ho necessità di andare al gabinetto. Ma non voglio perdermi neanche un solo secondo di questo show. Devo trovare il momento giusto per alzarmi e andare in bagno. Nella puntata di oggi vedremo documentare gli stagini animali. Con Gianni Tidore. E adesso pubblicità. Oh no, perché proprio adesso la pubblicità? Se vado in bagno me la perderò. E va bene, ne guarderò solo una. E poi andrò a fare la cacca. Ehi ragazzi, è arrivato il nuovo videogioco. Sì, quello che starà ti aspettando. Paccomano. Paccomano! Paccomano ti dà la possibilità di esplorare 27 ambientazioni usando lo stesso personaggio. Potrai saltare, ricevere e colpire con la forza del pensiero schiacciando il tasto X3Z. E tutte le mosse più micidiali del mondo sono in questo tasto. Paccomano! Cosa stai aspettando, bambino? Che i tuoi genitori crepino vai a comprare questo gioco adesso, vai! Paccomano! Wow, questo gioco ha una grafica bellissima. Quanto vorrei giocarci un pochettino. Ancora due minuti e mi sarei fatto la cacca addosso. Però non vorrei perdermi il Gianni Tidori Show. Per fare più in fretta, sarà meglio non usare la carta igienica e scendere direttamente giù. Così fare un tempo per vedermi lo show. Eccoci ancora, ragazzi, con il Gianni Tidori Show. Giusto in tempo. Oggi parleremo dei filini, in particolare dei gatti. Questi sono i filini più piccoli che esistono. Eh, però sono ben agressivi, eh? Sì, sì. Aiutano molto l'uomo perché mangiano i topi, gli uccelli, gli uccelli, mi fanno male? Vediamola. Vivono sia in casa che fuori. Impazziscono. Noi li vestiti di amo. Il gatto. Lo stamberto. Noi li vestiti di amo. è impazzito pesci pesci è una grattata genitidore sa un sacco di cose sugli animali li conosce alla perfezione e li ha studiati in ogni minimo movimento che bravo e anche questa puntata del giannitido è terminata sponsorizzato da la prima gomma che cancella scossiglato l'uso del prodotto ai bambini e agli anziani usare il prodotto solo aperto in luoghi ventilati non ingerire il contenuto verde della scatola regalo l'uso frequente del prodotto potrebbe causare sonnoenza, allegri emotivata e voglia di vedere un nuovo film del tartarughe ninja chissà cosa trasmetteranno adesso in televisione sono curioso benvenuti ad una nuova a questo punto credo sia meglio fare qualcos'altro tipo guardare un dvd magari del film sui cani che leccano le pareti credo si chiamasse Titanic che bello sono degli animali stupidissimi tu sei il stupido a cazzo che ci sia bau bau miau bau ciao